Allora continuiamo dove abbiamo lasciato ieri, oggi sarà un video sicuramente più corto. Allora abbiamo... No, non è questo il tabbo che voglio... Via... Anche questi... Via... Questo posto, questo... Sto repasando perché non mi ricordo... Eh... Via... Via... Full Metal 243... Via... 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 e la matrosca pensavo di aver fatto qualsiasi questo è un centro, questo è un building block ah niente, dobbiamo andare a fare dobbiamo fare in modo di passare grazie 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 pensavo ci fosse qualcosa di interessante andiamo a puntare ok ci siamo grazie 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 Sì un po, un po, un po, un po, un po, un po... Non mi abbia pieno le manizioni, ma questo perché io sono particolarmente Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 . Sì. 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 Grazie a tutti 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 Questo Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Grazie a tutti 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 Grazie a tutti